Presidio e vigilanza degli uffici postali presenti sul territorio comunale di Capaccio Pessum nei giorni 1, 3 e 4 dicembre. La scelta è dettata dalla necessità di prevenire qualsiasi tentativo di scippo ai danni di persone anziane nei pressi degli uffici postali in occasioni dei primi giorni del mese, all'atto del ritiro della propria indennità di pensione. L'assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana, retto da Piero Cavallo, ha così concordato un servizio di presidio e vigilanza atto a prevenire qualsiasi tipo di attività di microdelinquenza, garantendo di fatto la massima attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Tale attività di vigilanza sarà messa in atto dagli uomini della Polizia Locale, coordinati dal Comandante Antonio Rubini.